I carabinieri della stazione Torino alla Falchera hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di due torinesi di 58 e 48 anni, già note le forze dell'ordine per più rapina gravata in concorso. La coppia, ritenuta responsabile di due colpi a mano armata con il volto coperto da maschere di lattice, risponde a vario titolo di una rapina a un supermercato e alla reception di un hotel del quartiere Barriera Milano, rispettivamente il 26 novembre e 21 dicembre scorsi. L'analisi delle immagini di videosorveglianza e le testimonianze raccolte dai carabinieri hanno permesso di identificare due rapinatori, già arrestati in flagranza il 27 dicembre scorso, quando avevano derubato la titolare della tabaccheria di via Montebello 9 di 800 euro in contanti, dopo averla sequestrata richiudendola nel retro del negozio. Nell'occasione i carabinieri avevano sequestrato una pistola scenica priva di tappo rosso a canna forata, completa di caricatore, un passamontagna, un paio di guanti in lattice, una maschera in lattice e una bomba a mano inattiva.